ragazzi buongiorno, buon pomeriggio buonasera, buonanotte ciao Mullah ciao reazione a caldo post tour de France presentazione si correrà dal primo al 24 luglio 2022 è stato presentato ieri noi abbiamo aspettato che uscissero le altimetrie e analizzato un po' le tappe allora diciamo che si parte da Copenhagen e si arriva a Parigi tre giorni di riposo quindi un po' atipica come cosa rispetto a un giro classico da tre settimane si sconfina chiaramente in Danimarca perché si parte in Danimarca poi in Belgio e in Svizzera 3.328 metri chilometri magari chilometri che prevedono 6 tappe di montagna con 5 arrivi in salita io prima impressione così poi andiamo nel dettaglio a me in Toscano lo dico mi garba a me piace a questo tour de France piace particolarmente due crono 53 km a cronometro cronometro iniziale che ora andiamo a vedere poi alla penultima tappa di 40 km allora Moulin così poi andiamo nel dettaglio come ti pare questo tour de France? giusto due parole iniziali no tanta salita c'è ce n'è tanta tanta montagna 40 km al crono sono tantissimi quindi i 13 iniziali eh sì quelli vabbè dai primo giorno magari non ci saranno grandi distacchi 40 km finali sono pesantissimi per tanti saranno pesantissimi i favoriti comunque sono sempre soliti anche se ci fosse stata una crono anche se ci fosse stata una crono più corta perché ora come ora chi va a cronometro va anche in salita no? i più forti sono più forti a crono e sono più forti anche in salita quindi l'unica incognita più che la crono e più che le che le montagne è la tappa del pavè allora iniziamo velocemente a guardare le tappe così random questo è il disegno del Tour de France si va molto a sud è un bel tour ripeto a me piace come è disegnato si parte con le tre tappe danesi poi il giorno di riposo si torna in Francia e si diciamo si andrà nel nord della Francia e si uscirà anche un po' andando in Belgio nelle tappe attenzione alla quinta tappa che c'è poi andiamo a vedere dopo poi c'è il secondo tappe danesi da non sottovalutare da non sottovalutare prima settimana con le cadute e qui ci ho visto che comunque sono insidiose col vento possibile di solito la prima settimana fa la differenza quelle cadute per chi perde subito il Tour allora diciamo che le tappe insidiose la prima settimana sono due la cinque Aremberg l'arrivo Aremberg non si fa la foresta di Aremberg si fanno alcuni tratti della Paris-Giroubaix ma sono tantissimi tratti nuovi i tratti sono 19,8 km è tanto per un Tour de France è tanto 11 settori in Pavea e tutti messi negli ultimi 75 km poi la tappa 7 scusate la tappa si 7 alla Plange de Belfields quindi attenzione al primo rimo in salita già tosto sui volgi poi c'è non ci sono tappe così impegnative poi c'è riposo a Morsin e poi si parte la seconda settimana che secondo me sarà la decisiva tappa interlocutore a Meijem poi c'è il Col du Granon arrivo in salita Alpe d'Uez e in queste due tappe si scala due volte il giorno della festa nazionale si si scala due volte il Col du Galibier quindi attenzione sono tappe insidiose tanto di dislivello poi tappe un po' interlocutorie fino al riposo di Carcassonne e poi c'è l'ultima settimana con il Peragood e l'Utacam altri due arrivi in salita totale cinque arrivi in salita su sette tappe di montagna però cinque arrivi in salita sono giusti ecco per un tour altre settimane sono giusti e poi il cronometro finale di 40 km spezza gambe spezza gambe alla penultima tappa e poi la passerella a Parigi per un totale come detto di 3.328 km allora andiamo a vedere nel dettaglio non abbiamo tutte le altimetrie perché ancora non sono tutte disponibili però c'è c'è già robetta robetta da far vedere eccole qua allora questa è la crono iniziale andiamo anche a vedere più che altro qui è la planimetria che è importante come si può vedere è una crono con pochi pochi rettilini tante curve dentro Copenaghen potrebbe essere se non piove c'è tempo giusto insomma a luglio in teoria potrebbe essere già 13 km sono tanti eh sì sì non è un prologo perché il prologo si rimane intorno di 5-6-7 km no no è una crono corta però già qui i distacchi potrebbero essere tra chi va forte e chi va piano nell'ordine del minuto diciamo secondo me per la maggior parte dei ciclisti non tanto qualcuno prende già un minuto anche qualcuno che va piano rispetto ai Roglic e Pogaccia della situazione chi va piano mi viene da pensare non lo so a un Landa Landa Michelangelo Lopez questi corridori qua un minuto se lo beccano qui in questa crono quindi già già si parte male ecco in teoria detto questo quindi questo è il profilo della crono che non presenta nessun GPM niente di niente sono curve e tratti insidiosi poi le due tappe in Danimarca sono tappe allora l'altimetria questa è la prima tappa l'altimetria non è così insidiosa niente di particolare in teoria sono due tappe da velocisti questa è la prima cioè la seconda tappa sono tappe in cui c'è un grosso rischio di ventagli e cadute bravo fondamentalmente entrambi hanno presentano tre com la seconda e la terza tappa presentano tre com però niente cioè veramente sono collinettine niente di partito giusto per assegnare la maglia qui prevedo fughe occhio l'unica cosa ventagli e cadute perché comunque le strade non sono quelle del Belgio del nord della Francia comunque non sono stradone immense in Danimarca ma poi c'è il vento il vento c'è sono insidiosi dai allora andiamo alla tappa del pavè questa è la tappa del pavè che è la tappa 5 e inizia a essere scusate tappa 7 no tappa 5 tappa 5 del pavè qui qualcuno ci rimette le penne nel senso figurato eh perché qualcuno esce completamente o di classifica oppure cadute varie qui qualcuno dei nomi di classifica saluta il Tour de France sicuro 19.8 km sono tanti perché se non mi sbaglio al Tour de Nibali non fecero 19.8 km fecero un pochino meno no questa farà più differenza delle salite allora se piove è un disastro se non piove lasciamo perdere però se non piove se non dovesse piovere potrebbe essere una tappa da insidio comunque assolutamente conta tanto la squadra chiaramente perché è un capitano che dovesse avere comunque una squadra perché i uomini da pietre che fanno anche classifica non ci sono quindi ci vuole una squadra che possa proteggere il capitano è importante importante importantissimo e volendo spingere anche per fare un po' di selezione eh ah sì qui ci vogliono passistoni quindi attenzione alle squadre che porteranno al Tour de France i vari Pogac e le Roglic perché un uomo da pavè ci vorrà anche due sì anche due ecco mi viene in mente la UAE magari se confermano Trentin potrebbe essere un uomo che a Pogac potrebbe far comodo in questa tappa qui mi viene in mente così eh uno vediamo lo stesso Vanart Roglic Vanart ecco insomma Roglic diciamo qui è più tranquillo detto questo tappa con l'arrivo a Chalet du Soleil tappa insidiosa è la tappa nove poi andiamo a vedere anche l'arrivo alla Plage de Belfils però questa è la tappa nove come la vedi questa tappa è il secondo arrivo in salita del Tour de France diciamo così non è proprio un arrivo in salita di selezione particolare la Plage de Belfils è la tappa sette che è diciamo la più forse la più pericolosa di queste due più età sì 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 questa non prevedo sì anche perché la salita la penultima salita sono 15 chilometri al 6.1% questa è la tappa da Roglic onestamente arriva il gruppettino se arriva il gruppo e non la fuga arriva un gruppettino ristretto e si giocano nella volata allora qua alla Plage de Belfils non abbiamo l'altimetria comunque sarà la classica tappa dei golgi deduco che farà selezione solo l'ultima salita e probabilmente gli ultimi tre chilometri questa invece eccetera tappa 11 ah fanno anche lo sterrato finale dici sì sentite io ho visto di sì ok ok allora Moulacci conferma che fanno lo sterrato finale quello poi lo verifichiamo col du granon dove vince la Philippe ricordiamo col du granon questa è una tappa dove si fa tappa 11 prima dell'alpidouette saranno due tappe decisive col du galibier che ragazzi il galibier è storico dal versante col du telegraph anche il telegraph questo è il versante dove Pantani scrisse la storia chiusa parentesi col du galibier poi si scende col du granon sono due salite impegnative toste il col du granon ma anche il col du granon sono 11,3 km a 9,2% medio quindi attenzione qui si decide il tour bella tappa bella tappa la tappa dopo è ancora peggio perché c'è col du galibier fatto dall'altro versante quindi col l'utaret prima poi la croix de ferre e l'alpidouette quindi questa è una tappa passatemi il termine con i controcazzi queste sono tappe corta c'è 66 km anche la croix de ferre che anche se non ha pendenze impossibili ma sono le classiche salite da tour de france di 30 km che fanno vittime quindi ragazzi questa tappa è da guardare dall'inizio alla fine alla fine anche un po' prima dell'inizio e un po' dopo la fine sì se non tagliano la diretta sì quindi questa era la tappa 12 poi andiamo fu a un arrivo tappa 16 un arrivo abbastanza tranquillo questa è considerata tappa di montagna però onestamente qui non prevedo grossi casini questa è una tappa da fuga e niente di più onestamente però mai dire mai mai dire mai però conoscendo il tour de france in questa tappa chi sarà rimasto chi sarà rimasto in piedi sì chiaramente tappa 16 si inizia si inizia a arrivare alla fine però ricordiamo che le tappe del Galibier Alpe d'Uez in primis sono nel mezzo al tour de france non sono tappe dell'ultima settimana quindi già a metà tour potrebbe essere abbastanza bello e deciso abbastanza scremato diciamo così sì tappa 17 il Peragù è una tappa insidiosa diciamo con il Valluron il Col daspen prima l'Ancizan nel mezzo sono tutte salite abbastanza corte non difficilissime l'ultima è forse la più impegnativa come la vedi questa? chiaramente sono tappe pirenaiche quindi le pirenei sono un pochino più diversi dalle Alpi lo sappiamo però tappa corta è sempre pericolosa più di tante altre perché si parte magari si parte prima capito l'attacco magari si aspetta e poi abbiamo la salita l'unica altimetria che abbiamo trovato è questa si vede un po' male però accontentatevi questa è la tappa diciamo che se qualcuno deve recuperare o si deciderà il Tour de France sicuramente in questa tappa anche se chiaramente tutti potranno due tre quattro corridori potranno sempre essere in classifica si spera che non si giochi il podio ma si giochi proprio il Tour de France perché la salita anche qua si parla di storia recente però si parla di storia del Tour de France Utakam insomma vabbè io mi ricordo l'attacco di Pantani con Armstrong che lo prende e lo stacca e poi dopo insomma sappiamo come è finito il Tour però Utakam è una bella salita ha vinto Nibali nel 2014 è una salita da selezione si fa selezione è una salita lunga pendenze anche abbastanza importanti in alcuni tratti è una salita di 13,6 km al 7,8% però prima comunque si scalano altre due salite abbastanza importanti soprattutto il call Dubisk Dubisk è una signor salita tutte salite lunghe capito quello è il discorso questa tappa più insidiosa nella precedente molto più insidiosa nella precedente io la vedo così questa farà molta più selezione nella tappa prima probabilmente chi si vuole giocare il Tour de France se lo gioca qui e non nella tappa precedente io la vedo così poi non lo so e poi l'ultima tappa da classifica cioè che farà selezione qui sono tanti qui per qualcuno sarà una serie si 40 km al cronometro con anche due cot nel finale niente di stratosferico però non è nemmeno del tutto piatta quindi al cronometro per specialisti chi ha le gambe in fondo al Tour l'ultime due cot negli ultimi 4-5 km possono tagliare le gambe se non l'hanno già tagliate precedentemente appunto quindi qua è una salita è una sì ma è una salita è una cronometro che tra chi sta bene e chi sta male possono anche andare i distacchi negli ordini dei tre minuti anche di più anche di più anche di più e questo è quanto poi la classica passerella a Parigi Moulin un voto al disegno di questo diciamo che secondo me se tutto a meno che non succedano disastri difficilmente si giocherà il Tour sulla crono ma probabilmente la top 10 la maggior parte della top 10 potrà cambiare anche nel in parte nella crono finale perché qualcuno recupererà un sogno Pogac a Roglic divisi da a prescindere chi primo chi secondo divisi da una trentina di secondi la rivincita o la rivincita ma sarebbe uno spettacolo speriamo perché speriamo detto questo che voto dà il Tour de France da uno a dieci dal disegno dai otto e io ho anche un otto e mezzo però dal punto di vista diciamo come ti posso dire il pavè l'accetto fino a un certo punto perché ho paura che fa no lo sai ma non è perché già nella prima settimana ci sono tantissime cadute che diciamo condizionano completamente i grandi giri sempre di più nella prima settimana quella tappa lì la vedo veramente come già decisiva cioè secondo me qualcuno rimarrà veramente già tagliato fuori dalla lotta forse cioè spero non troppe persone capite perché lo spettacolo a quel punto di vista la tappa e mezzo quasi nove eh Mullano no no quasi nove perché 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 c'è la crono d'apertura che a me piace c'è una crono di 40 km che a me piace perché le crono corte di 20-25 secondo me non hanno senso la crono o la metti o la metti bella o non le metti non c'è la crono squadre che mi sta leggermente sulle palle e quindi meglio così c'è il pavè che secondo me una tappa o due di Cotte o pavè nel Tour de France ci sta come lo sterrato o una tappa di muri toscani o delle marche a Giro d'Italia ci sta sempre quindi siccome c'è anche una tappa di murettini in Belgio che dovrebbe essere eh antecedente credo alla Planche de Belfils come tappa non abbiamo l'altimetria quindi ci sono un po' di muri c'è il pavè e secondo me la prima settimana condita con l'arrivo alla Planche de Belfils è perfetta la settimana nel mezzo io guarda l'unica cosa chiaramente non si può fare a livello planimetrico ma i Pirenei li metterei sempre prima delle Alpi perché a me mi piace che il Tour de France sia deciso sulle Alpi e non su Pirenei però l'unico difetto se lo vogliamo trovare però prima le Alpi e poi Pirenei vanno bene uguali c'è tutto l'unica perché non gli do 10 a questo disegno non li do a 9 e mezzo perché perché ragazzi io il Mont-Virtour e lo voglio sempre sempre tutti l'anno io voglio il Mont-Virtour a me ci metto il Mont-Virtour tutti l'anno e io sono contento la doppia scalata il Mont-Virtour la doppia scalata proprio è da non lo posso dire però è da orgasmo però un Mont-Virtour a metà tour per me ci sta sempre perché è sempre uno spettacolo detto questo per me è un tour da 9 ragazzi fateci sapere cosa pensate di questo tour de France se vi piace non vi piace che voto li date se anche voi vorreste sempre il Mont-Virtour se preferite Alpi-Pirenei o Pirenei-Alpi ricordatevi di seguirci sulla pagina Instagram Fantasagri in tattino basso official perché sapete tutta la storia di Instagram che non abbiamo più il vecchio account e quindi riseguiteci riarriviamo a 9-10.000 follower come avevamo precedentemente iscrivetevi al canale YouTube soprattutto commentate fateci sapere cosa pensate tanto noi si risponde a tutti il Mullah in primi si risponde a tutti con il suo account ciao arrivederci